Ciao a tutti ragazzi di Spazio Games, sono Dr. Mirax e oggi siamo tornati su questo canale con un video che noterete non è propriamente uno dei classici che vi ho sempre portato quindi non è affatto un'analisi classe di Titanfall, ovviamente di COD, non lo è perché stiamo vedendo un gameplay di Titanfall ma è una cosa che sinceramente vedendo altri video su YouTube, in particolare un video di Drifter ho voluto diciamo proporvi perché comunque mi siamo un argomento buono di discussione allora l'argomento è Titanfall e iniziamo subito col dire una cosa a mio parere il gioco è un gioco veramente valido, è comunque un buon sparatutto, un'alternativa molto buona secondo me a COD però la gente secondo me non lo gioca ormai più tanto secondo voi come mai questo è successo? Perché comunque Titanfall è un gioco, ripeto, un'alternativa ha comunque delle caratteristiche buone che lo rendono sicuramente un gioco avvincente o comunque con caratteristiche uniche che magari sparatutto come COD e Battlefield non hanno però nonostante questo Titanfall ha perso tantissimi utenti non appena, subito dopo, anche qualche settimana dopo la sua uscita quindi veramente in multiplayer ha pochissime, pochissime persone rispetto ai classici COD o Battlefield o comunque ai due colossi che fanno degli FPS una delle categorie più conosciute nel mondo dei videogiochi quindi che cosa, secondo me che cosa ha portato Titanfall a perdere con tanta gente? si diceva, non appena appunto era stata annunciata l'uscita, che comunque vedendo i gameplay vedendo l'introduzione di questi elementi tipo i Titan o comunque i robo giganti, l'azione futuristica tutto, diciamo, questo avrebbe portato un pochino la gente a spostarsi un attimo da COD e a provare questo nuovo titolo che comunque, ripeto, si è rivelato avvincente sotto molti aspetti ma poi è capitato purtroppo il peggio perché comunque tantissimi utenti si sono persi e non si capisce bene il motivo sinceramente non saprei spiegarlo bene probabilmente potrebbe essere anche il basso numero di armi presenti all'interno del gioco magari il fatto di avere poche armi o comunque avere poche possibilità di poter cambiare le proprie classi rispetto a un COD, un Battlefield perché se comunque andiamo a pensare, Battlefield effettivamente ha tantissime armi ma che hanno tutte circa lo stesso danno, tutte circa lo stesso rato di fuoco tutte circa la stessa distanza in cui i colpi riescono a colpire il nemico quindi comunque sono armi che si equivalgono in ogni caso e anche per esempio con COD abbiamo fucili con caratteristiche molto simili l'uno con l'altro però sono praticamente armi che non usano, non vengono utilizzate tutte quindi comunque vengono utilizzate solamente in parte da parte del giocatore quindi perché è successo questa cosa tra i trafo? comunque ha meno armi, sì, però ha più varietà voglio dire, le armi magari vengono utilizzate un pochino più in maniera differente non so sinceramente comunque a me dispiace molto, Titanfall io ci gioco ancora per portarvi a recensione delle armi quindi una volta ogni due giorni io gioco a Titanfall e comunque mi piace perché comunque è un titolo di svago possiamo dire a COD o comunque a solita cosa che sono, Battlefield appunto proprio anche COD stesso quindi sinceramente non so darmi una spiegazione per questo motivo che cos'altro dire per esempio i DLC o 20 DLC sappiamo che ci sono in tutti i giochi in questo caso i DLC Expedition contiene solo mappe e anche questo forse può aver giocato un ruolo decisivo nella discesa di utenti che utilizzano questo videogame per esempio il fatto di non avere armi all'interno del DLC ma soltanto delle mappe può aver penalizzato il numero di giocatori di questo gioco adesso gli altri giochi multiplayer hanno moltissimi armi come DLC per esempio pensiamo a Ghost che in due DLC hanno messo due armi poi magari c'è tantissima gente a cui non piace Ghost poi abbiamo per esempio Battlefield che con i DLC vari tipo China Rising, Naval Strike hanno aggiunto comunque armi nuove da inserire quindi probabilmente la scelta di Respondent Entertainment di non inserire delle armi può aver penalizzato in un certo senso il numero di utenti che giocano proprio a Titanfall comunque era giusto un mio parere personale vorrei tanto sapere anche la vostra opinione fatemi sapere se comunque anche voi giocate a Titanfall io ho detto che comunque lo uso perché comunque lo uso per le recensioni delle armi, le analisi quindi comunque è un titolo che mi propone un certo non so che, diciamo di svago rispetto a COD quindi un pochino lo valuto come un'alternativa molto buona agli FPS ormai consolidati sul mercato dicevo fatemi sapere voi cosa ne pensate se giocate a Titanfall se anche voi avete effettivamente riscontrato questo calo netto perché ripeto già dalle prime settimane Titanfall ha perso tantissimi utenti giocatori dal mio punto di vista perché facevo sempre molta fatica a trovare partite multiplayer online e non è il problema della connessione che possiedo quindi lascio tutto nelle vostre mani lasciate un commento nel box sotto al video passate dal mio canale personale vi ringrazio tantissimo se lo farete ringrazio comunque come sempre gli iscritti che si aggiungono ormai numerosi al mio canale e vi ringrazio davvero tutti noi ci vediamo presto con un nuovo video dedicato a una nuova analisi di Call of Duty sul canale di Spazio Games ciao a tutti